Stiamo per cadere quasi nel ridicolo e di questo sono veramente amareggiato perché ho sentito delle dichiarazioni da parte del Presidente Catarano che mi lasciano veramente sorpreso. Intanto perché all'incontro con il Presidente Alfai non c'era, quindi non capisco come faccia a riportare la contezza che non c'era. Sì, assolutamente sì. Lo dico con molto rispetto, anzi lo ribadisco perché il lavoro che fa l'Associazione con tantissimi iscritti è veramente greggio, però non bisogna diventare provocatori, soprattutto non ha proprio senso cercare di screditare in ogni occasione possibile l'amministrazione. Non sono solito, non l'ho mai fatto e non lo voglio fare neanche oggi entrare in polemica con nessuno, soprattutto con chi si impegna sul territorio. Però qui ho un discorso proprio di ristabilire la verità e soprattutto un concetto. Il proprietario del castello di Calattubo è esclusivamente il Comune di Alcamo. Nessuno e soprattutto l'associazione in questo caso Salviamo Castello e Calattubo può arrogarsi il diritto di fare scelte o addirittura, come ho saputo, di chiedere appuntamenti con l'assessore regionale per conto del Comune. Nessuno mette in dubbio che ci possono essere difficoltà, ma non si possono dire castroneria. Non è assolutamente vero che i fondi rischiano di ritornare al FAI per un motivo molto semplice. I fondi sono stati spesi, i lavori sono stati fatti, una prima parte. La seconda parte, lo voglio chiarire, perché esiste la seconda parte? Perché con i primi fondi, erano i 30.000 euro, è stata fatta una gara, c'è stato un ribasso, quindi un'economia di 8.000 euro, che il FAI, gentilmente, ci ha concesso di riutilizzare e noi lo abbiamo fatto con una nuova gara che è già stata appaltata. Ma voglio dire di più, non solo è stata appaltata questa gara, ma questa gara è stata fatta per un importo superiore a 8.000, parliamo di 26.000 euro, di cui la parte restante, parliamo di ben 18.000 euro, sono stati messi a disposizione dalla nostra amministrazione, proprio per fare un progetto che avesse un senso. Per chiudere anche questa intervista, i lavori riprenderanno, abbiamo una data di calendario. In questi giorni ho avuto conferma che già la ditta è stata incaricata, quindi è stata individuata. I lavori comprenderanno anche il ripristino dell'illuminazione. Anche qui ci tengo a chiarire che l'illuminazione è stata acquistata con fondi comunali, con quelli del bilancio partecipato, ma è stata semplicemente acquistata. Oggi era necessario poi avere una ditta che si occupasse, quindi con la mano d'opera, di installare i cavi e di ripristinare l'illuminazione. Abbiamo avuto, e questo ci tengo anche a dirlo, l'interlocuzione molto collaborativa con il FAI, che è venuto qui soltanto per un'occasione, quindi per conoscerci. Non c'è stato assolutamente un intimato. Possiamo dare un titolo a questa intervista? Il sole dopo una leggera piogerella? Sì, sì, sicuramente. Ma dobbiamo essere una squadra. Se ci facciamo gli autogol credo che non andiamo da nessuna parte. Sì, sì, sicuramente.